Musica, teatro, cinema, sport, visite guidate, negozi aperti e tante iniziative. E' stata in città 2011, tradizionale appuntamento per la città di Pordenone, è stato presentato nella sala giunta del comune. Tra le varie autorità erano presenti l'assessore comunale alla cultura, Claudio Cattarruzza, e il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. E' stata in città 2011, offre quasi ogni giorno, per due mesi, uno o più appuntamenti, spaziando dal teatro alla musica, dal cinema allo sport, dai laboratori per bambini alle visite guidate. E non mancano i grandi eventi di piazza, una programmazione che viene incontro ad interessi e gusti di un pubblico molto ampio e di tutte le età. A me piace sottolineare di estate in città, visto che è il primo anno che ho la possibilità di presentare questa manifestazione che ormai ha una storia alle spalle, quanto una manifestazione culturale, che tra l'altro spazia e quindi trasversale rispetto a differenti offerte, sia anche un'espressione di come un'amministrazione comunale possa lavorare con il territorio. Perché è questo uno dei valori che l'estate in città tende a sottolineare. L'estate in città è possibile solo perché le associazioni di Pordenone, che si occupano di musica, si occupano di cultura, collaborano insieme per dare alla città un contenitore di iniziative che credo si trovi molto facilmente in altre realtà italiane e forse anche all'estero. Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla programmazione estiva